giornata spettacolo siamo carichi? carichissimi posizionati sui pallini rosa in partenza track comunque confermo alle piste da uscire è meglio scendere che salire però guardate che panorama per vedere come è stata la prossima tappa a zamboni grazie a tutti grazie a tutti zamboni in vista di qua c'è vero che salire in motore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti riempito un po' i borracci di via grazie a tutti grazie a tutti sono completamente da sola in questo fantastico bosco super corribile figata ecco quando arriverò alla fine di questa discesa non sarà una figata perché ci sarà da rispedire oh sofferente ma primo eh sto sentendo dal fondo valle vai via c'è la tifoseria qui ciao ciao via ciao ciao ti devi mettere a correre almeno per le telecamere ho una fame fottuta se mangio qualcosa adesso lo ripropongo la tifoseria mi ha dato la carica sono io e dove arrivo vai che ce la si fa non corre per le telecamere dai 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 è la droppa magari a tripos Ringraziamo gli sponsor, scarpe e calze, papà e mamma, vestiario e zainetto, suoceri e cognati e il pettorale è il mio portafoglio.